I 5 uomini più ricchi d'Italia nel 2022 secondo Forbes Al quinto posto si trova Piero Ferrari con un patrimonio di 4,8 miliardi Al quarto posto c'è Massimiliano Landini e Leotti con un patrimonio di 5,1 miliardi Al terzo posto Silvio Berlusconi con 6,4 miliardi Al secondo posto Giorgio Armani con 6,9 miliardi E al primo posto con un distacco di 5 volte tanto dal secondo posto troviamo Giovanni Ferrero con 34,6 miliardi di patrimonio